I ragazzi del liceo Gatto di Agropoli hanno scioperato da alcuni giorni lamentando un riscaldamento nelle aule insufficiente, ma oggi sono rientrati regolarmente. Sabato scorso il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, si è recato presso il liceo e ha incontrato il dirigente scolastico Fortunato Ricco e due rappresentanti di istituto per fare un sopralluogo presso le aule. Dopodiché si è attivato con la provincia di Salerno, ente di competenza, e ha fatto portare da 5 a 9 ore l'accensione del sistema di riscaldamento presente. Inoltre ha fatto sapere che si prevedono ulteriori novità per migliorarne il funzionamento. La situazione ad oggi in ogni caso è accettabile, ha dichiarato il sindaco. Provvederemo subito a migliorare la situazione. Nel frattempo però è bene che i ragazzi facciano ritorno a scuola in modo da non perdere altre importanti ore di lezione. Critica ancora una volta la consigliera comunale Gisella Botticchio, che anch'essa ha visitato il liceo scientifico, scusatemi ma non sopporto le ingiustizie, ha fatto sapere i ragazzi al freddo e gli impiegati negli uffici al caldo. Per questo il liceo scientifico l'ho soprannominato, la scuola dell'umanità. Intanto la provincia di Salerno ha promesso che dall'anno prossimo il contratto stipulato con la società che gestisce il riscaldamento scolastico non sarà rinnovato, cedendo le redini e dell'impianto solo ed esclusivamente al personale del liceo, facendo sì che i termosifoni possano restare accesi per ben 24 ore. È un traguardo molto importante, hanno dichiarato i rappresentanti d'istituto. Dopo numerose battaglie, finalmente il liceo Gatto ne esce vincitore, dimostrando che nessuna guerra si vince senza credere fermamente in ciò per cui ci si sta battendo.